Con una legge emanata dal Parlamento, tutti coloro che guardano questo video e sono nuovi devono iscriversi al canale di Master Figo! Quanto ci ha messo a cadere? Ma do, è rimasto tipo in aria per dieci minuti Vabbè, iniziamo Oh mio Dio, che cos'è? Cos'è sto disag... Qualcuno chiami qualcuno Che cos'è sto disagio? Ah, tra l'altro le musiche mi sa che me le ho tolte perché Cosa sta facendo? Amici! Oh, è inquietante È inquiet... Che cosa ho appena visto? Cioè, io ho bisogno di sette docce per sta... Se l'inizio così mi immagino la fine Cioè, la fine La fine Vediamo il prossimo tiki-toki Tiki-toki, tiki-toki Perché non l'ha chiamata tiki-toki l'applicazione? Sarebbe più bella Una giornata tranquilla in quel di Minecraft Mentre il nostro player senza braccia e inventario esplora il nulla Allora, se mi parte un jumpscare... No, io lo so Quando è così tranquillo e vedono qualcosa e ci si avvicina piano Parte il jumpscare Dai! Cos'era? Cos'era? Voglio rivederlo piano Dalla regia e mandate indietro la clip Io sono la regia E io mando indietro la clip Cos'è? Eh, sì Cacchio C'ho presente ma non mi ricordo il nome Vabbè, dai Voi l'avrete capito meglio di me In caso scrivete uno nei commenti Come cacchio si chiama? Fuck Non mi ricordo il nome Vabbè Cosa sta succedendo nel mentre Puff Mado Ma oddio quanto bello Madoi ha fatto un cambio giro di quelli porca mer Bello sto... No No Come si chiamano queste shaders? Molto probabilmente Come si chiam... Fii E E Che figata Bello Cosa sta facendo il nostro amico 318 05 8 9 Figo Ok 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 Ah sono i... Sì Niente Sni Questo gli da un 6 meno Non è che mi abbia interessato No Sei un pat Fatelo dire Lei signor Azza Come ti chiamano? Ora voglio vedere il suo nome Tutti devono sapere che ti chiami Azzazzacazzacks Con quale nome? Leon deficiente Building tricks in minecraft Putta si pickle Alla pumpkin Give it a steam Ok Quindi un pickle sulla pumpkin Che è esattamente Già che ho scritto Una lanterna Fermi tutti O sparo Quindi Pumpkin Una zucca Un pickle Che è un... Sì dai avete capito Il pickle Lo so in inglese Non lo so in italiano Lo metti così Poi una lanterna Sotto del glass Ovviamente Nel volante E fa... Figo Poi ovviamente Con le shader Se ne è tutto Molto più bello Figata Il nostro amico laggante Cosa ci va a fare? Una farm di polli? In un polli? È un polli Mi è piaciuto L'abbiamo fatto anche in un episodio di tiktok Mi sembra Sì Mi sembra di sì Sì Prossimo tiki toki Altro giro Ormai sì Li chiamerò per sempre tiki toki Un botto di diamanti Smeraldi E altre robe varie E uno schifo Dice... Ah... Ok No non ho capito No ok no Non ho capito Andiamo avanti Cosa? Ci sta rompendo la pietra con le bra... Ok Ah è finito qua Pensavo ci fosse slamato Che schifo il ragno Beh 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 Perché lo sto ancora guardando Ma dai c'è la pubblicità di Rocket League Ah tra l'altro voglio scaricare Rocket League E farci una partitina Cioè una partitina Un video È gratis sull'epicam store Dai che schifo qualcosa di ragno Beh che schifo Prossimo Un orso che sta cucinando della carne Cordero e spagnoletto Zerle desma 22 Eh sì Sì Cosa Oddio che cos'è qualcosa Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo E niente Fian mega zombie kill Li ha eliminati tutti Oddio ma quanto sarebbe bello Secondo voi esistono le skin tipo dello zombie Così che tu in realtà sembri uno zombie Però non sei uno zombie Mi avete fatto venire in mente un'idea Andiamo avanti con il nostro amico laggante Che non si sa il nome perchè è tutto girato Non voglio girarmi Si fa i boots ci mette mending Ok Ok Cosa ci stai creando piccolo amico retardown Airpods Oddio Oddio Mettiteli in testa ti prego Eh niente vabbè vabbè No ho bloccato per sbaglio Ha fatto le airpods Ho urlato troppo Si vabbè con quale fermo immagine tra l'altro Un mini topo criceto Si è un topo criceto Guarda come sale Che carino No esplodo È morto Antaro Amici È morto Antaro No, si chiama Lantaro Ora voglio prendere un clicetto e chiamarlo I miei occhi Sì, bello Bello, eh Ma i miei occhi Oh, oh, ok Spacca il legno, spacca Ti spacca lui, altro che il legno Minecraft? Ma puoi mangiare qualsiasi cosa Ah, che male, poi è la go No, no, che c'è la pietra Oh, che sberlo Oddio, che figa Voglio scaricarmi questa mod E ancora i miei occhi che muoiono Continuum shaders 2.1 Ah, quasi quasi Madò, quanto erano belle No No Wow Cose da fare in creativa Parte 5 Ci siamo persi la parte 4, 3, 2, 1 Vabbè, ma questo lo so fare anch'io Credo Fa vedere Dai, clicca No, questo non lo so fare anch'io Ok, pensavo fosse quello Quello che rimbalza Ok Eh, cosa ho appena visto Quello che rimbalza Quello è tutto particolare Ma vabbè Qua ci sta facendo il beacon beacon Il spear beacon Forse ho capito cosa vuole fare Pistoni Ok No, però ho messo così È strano Ok Ok Cosa ci va Cosa ci sta Ok La situazione Si fa sempre più interessante Ok Si Cancelli Ci sono le sbarre Esatto Non puoi passarci attraverso Ma c'è Ma eh No, raga Raga Mai detto Raga In tutta la mia vita Ehm No C'è No Non se No, no Fail, fail Mega fail Voleva fare il figo L'ho fatto Mi sembra nel primo episodio di TikTok Quello dove io li vado a fare Eh, ok Rosso Si Ok Ci ha cambiato colore Ma Niente di che Si può fare molto più facilmente Fidatevi Nuovo TikTok Nuovo giro Sembra Che non stia capendo Cosa ci va a fare Eh Ok Ok Va beh Quindi signori Chiudiamo Spegni Stacca Stacca Ci stanno ritracciando Che ignoranza Quel video Vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Nel solito Ovvero l'1.45 Con un nuovo video Devo smettela A questo messico Devo smettela Ciao